Veloci! Torniamo, torniamo! Una a destra, perché era libero? Guardalo, guardalo che so, guardalo! Facci di sopra, fratelli! Guardalo, guardalo! Aiutatelo! Allungo! Tornate! Tornate, sono tre! Uno a destra! Facci ben di pressa! Uno dietro! Occhio! Uno dietro! Occhio! Uno dietro! Attenzione! Non c'è la pubblica, non c'è la stoffa. Vai capitano, oh! Capitano, dai l'esempio! Non lo chiamare così, fai impressionante. Numero 10! Noi vedi, vedi da noi notti, vedi tutte le film. Coramarino, 3 a 0 futsal.